E' pronto a candidarsi Mauro Maccauro e il centro-sinistra insieme per difendere, ridisegnare e rilanciare l'agronocellino sarnese. La conferma è giunta direttamente dall'ex presidente di Confindustria Salerno che ha rilasciato un'intervista alla nostra emittente che ha addestato non poca attenzione se non addirittura fatto scalpore visto che è poi stata rilanciata da numerosi giornali e siti web. Prese d'assalto le pagine YouTube e Facebook di Telenuova che hanno ottenuto in merito migliaia di visualizzazioni su una notizia che fino a ieri era soltanto un'indiscrezione, una voce mentre adesso è giunta la conferma dal diretto interessato della potenziale discesa in campo che renderebbe l'area del centro-sinistra più intasata ma autorevole allo stesso tempo nella presentazione agli elettori delle proprie liste. L'imprenditore dell'agro ci sta pensando seriamente perché vuole presentarsi per il territorio, per il suo rilancio, per una risalita che deve essere reale, fattiva e non restare soltanto un progetto su carta. L'ago ha bisogno di essere rappresentato al meglio perché servono sviluppo e di conseguenza possibilità occupazionali ecco perché è un'area che va coperta politicamente con una rappresentatività che possa dare risposte serie ai cittadini. L'ex numero uno degli industriali salernitani ha sottolineato il valore dell'impegno del centro-sinistra degli ultimi anni ecco perché si dice pronto a dare un sostegno immediato a questo tipo di politica e vuole rendersi disponibile per dare un segnale alla gente. Salute, ambiente e sviluppo da questi tre temi vuole ricominciare a lavorare Maccauro che da imprenditore sa cosa significa dare un supporto, un apporto in un momento storico che rimane comunque una sorta di limbo, bisogna uscirne positivamente e definitivamente. Nell'aria però potrebbe esserci anche una novità, la sorpresa Torquato. Il sindaco di Nocera Inferiore nonostante le smentite di sorta per ora potrebbe a sua volta scendere in campo proprio nel nome della stessa rappresentatività di cui parla Maccauro per Nocera e dell'agro. Tra l'altro proprio alla vigilia di Natale Torquato ospiterà Ciriaco di Mita per un convegno dal titolo politica a confronto tra popolarismo e populismo. Saranno presenti tra gli altri anche De Mondo Cirielli di Fratelli d'Italia e Tino Iannuzzi del Partito Democratico. Il tutto andrà in scena venerdì 22 dicembre prossimo. Quando lei ha lasciato Confindustria il suo nome si è fatto anche in occasione di altre tornate elettorali in primis quella al sindaco della sua città di Nocera Inferiore. Lì invece ha declinato l'invito. Ora un impegno in politica potrebbe esserci perché? Ma in quell'occasione proprio da quest'emittente dissi che il sindaco Torquato aveva secondo me ben amministrato nel primo quinquennio e non era corretto fare una contrapposizione fino a se stessa ma dare la possibilità all'amministrazione comunale di completare i propri progetti. Questa volta è diverso. C'è un territorio che non ha una rappresentanza, che ha delle priorità che per me sono l'ambiente, lo sviluppo e il lavoro e da imprenditore so bene tutti i giorni che cosa significa l'assioma di queste tre cose e da questo punto di vista credo che chi dovrà prendere le decisioni a livello nazionale dovrà tenere conto di quelle che sono le priorità dell'agronocerino sarnese. Questa terra è stata da troppo tempo lasciata, abbandonata al suo destino? Ma questo lo si dice in ogni tornata elettorale. Poi il tempo passa e questo comprensorio in un modo nell'altro va avanti. Di sicuro va avanti per le tante persone che tutte le mattine si alzano e vanno a lavorare e che cercano, come dicevo al tempo, lei lo ricorderà, all'interno dei cancelli delle proprie fabbriche, per esempio, di fare il proprio lavoro se pensiamo che l'agronocerino sarnese è conosciuto nel mondo per le eccellenze dei propri prodotti. Anche da questo bisogna partire e su questo io credo che questa legge elettorale, che ripeto, dà la possibilità di far vedere i volti ai cittadini, può esprimere una classe dirigente eccellente.